Ape Social e Precoci, entro il 22 dicembre l'Inps pagherà le prime pensioni. Una buona notizia. Sicuramente per le persone che riceveranno la pensione o comunque un anticipo di pensione, perché per tutti non sarà ancora la pensione definitiva, una buona notizia. Peccato che riguarderà soltanto 1.102 persone a livello nazionale, 12 in provincia di Lecco, a fronte di 140 domande presentate in provincia di Lecco, di cui soltanto il 40% accolte, e cioè circa 60. Il che vuol dire che il pagamento di dicembre riguarderà una minima minoranza di persone coinvolte, di quelle persone che hanno avuto la fortuna di vedersi la domanda accolta. Per quanto ci riguarda, noi pensiamo che ancora una volta l'Inps non abbia garantito un diritto che la legge a nostro avviso doveva garantire. Non a caso le domande che abbiamo presentato erano presentate correttamente, con tutta la documentazione eccetera, nonostante questo l'Inps ne ha rispinte molte. Noi speriamo che da queste 1.102 domande, di cui 12 a Lecco, cresceranno nei prossimi mesi invece le persone che avranno la pensione integralmente riconosciuta. 12 a Lecco, ma peraltro è un anticipo, non è la pensione effettiva? Per alcune di queste non sarà la pensione effettiva. La pensione effettiva riguarderà solo le persone che hanno fatto domanda di app e social. Per quanto riguarda invece le pensioni legate diciamo così ai precoci, noi avremo soltanto le pensioni riconosciute a coloro che erano in uno stato di disoccupazione, quindi una minima parte delle domande di precoci. Peraltro tutte queste domande, tutte queste operazioni sono state oggi possibili per l'Inps perché la gran parte dei patronati, a partire dal patronato della CGL ma anche dalle altre organizzazioni sindacali in questi mesi hanno fatto tutto il lavoro di ricostruzione della documentazione utile all'Inps per poter giungere alla fase finale del riconoscimento del pagamento. Margare dell'Inps Margare dell'Inps Appare dell'Inps Shon Spreta ость Maricato Spreta L'Namerica Spreta Spreta Arte Bir Grazie a tutti